400 chilometri di tracciato all'interno del parco del Gran Sasso Monti della Laga che tocca 29 comuni tra le province di Teramo, L'Aquila e Pescara. Un anello sviluppato intorno al massiccio. Si tratta di Nexequum, il progetto di ripristino dell'ippovia del Gran Sasso. E' stato infatti firmato l'accordo per realizzare questo tracciato, un metodo per vivere la storia e le tradizioni del territorio attraversandolo con impatto ambientale zero. E' un valore aggiunto che il struttura, un'idea del parco di qualche anno fa, quella dell'ippovia del Gran Sasso d'Italia, già il realizzata, sulla quale però era necessario creare una rete di attenzione e di reale il vissuto. Attraverso questo progetto e questo studio si mette a sistema una micro ricettività che le mancava per un'idea di residenzialità che è forse il punto debole dei nostri splendidi territori. Non ci manca nulla in termini di bellezza, di paesaggio, di matrici ambientali, ci manca forse una capacità di accoglienza e di sistema. Il progetto di ricerca è stato realizzato dalla società demiogene dell'Aquila. 60 punti di micro ricettività per persone e cavalli con un indotto occupazionale che si stima intorno ai 110 addetti, al servizio di quasi 40.000 presenze stimate ogni anno. Andiamo praticamente a rispolverare quelli che sono dei percorsi già tracciati, li riattualizziamo. Sicuramente sarà dei numeri in forte crescita. Se pensiamo che abbiamo già nell'ambito, nel nostro ambito Abruzzo, 600 persone che, dico, tra operatori e cultori del turismo equestre già frequentano questi territori. Pensiamo a una grande richiesta da parte anche di persone straniere che vogliono vivere il nostro territorio. Quindi con questo progetto contiamo di aumentare le presenze in numero esponenziale.